Eminenza, Papa Francesco visita il Parlamento europeo 26 anni dopo San Giovanni Paolo II che aveva indicato come campi di missione per l'Unione Europea la custodia del creato, la solidarietà verso migranti e rifugiati e la ricostituzione di una visione integrale dell'uomo. Sono temi ancora attuali? Ma direi che sono temi di grandissima attualità, forse potremmo aggiungere di drammatica, di drammatica attualità e ancora di più parlare di emergenze, di autentiche emergenze, ecco come ha sottolineato dal resto più volte lo stesso Papa Francesco, ecco questi temi della custodia del creato, declinato più laicamente della difesa dell'ambiente, ecco è il tema della solidarietà nei confronti della gente che cerca diciamo nuove opportunità fuori dal proprio paese, è un tema che ricorre spesso nei suoi discorsi, soprattutto questo della solidarietà che non è soltanto diciamo uno dei valori dell'Europa unita, ma direi che è l'obiettivo stesso dell'esistenza dell'Europa, è certamente una delle sue dimensioni fondamentali e io direi che la giusta prospettiva ecco anche per affrontare e per trattare questi temi è quella di questa visione integrale dell'uomo che è il terzo aspetto che lei richiamava nella visione e nella proposta di Giovanni Paolo II, un uomo considerato in tutte le sue dimensioni, quindi compresa anche la dimensione spirituale, la dimensione trascendente, che è attrezzato proprio per questa integralità di approccio anche a dare una risposta, una risposta adeguata e costruttiva a queste sfide che si trova ad affrontare. I sondaggi dicono che solo il 30% degli europei ha una visione positiva dell'Unione anche per effetto della crisi economica, l'idea di unità europea ha perso il suo smalto, come potrà l'Europa ricostituire la sua identità? L'Europa molte volte è percepita dalla gente, dalla gente comune come una realtà molto molto lontana, una realtà molto distante, una realtà burocratica che non si interessa degli effettivi problemi che vive ogni giorno la gente e quindi questa distanza. E d'altra parte si articola anche un po' questa crisi dell'attuale situazione, una perdita di speranza, una perdita di fiducia che l'Europa possa dare risposta ai tanti problemi che il continente si trova a vivere. Sappiamo per esempio che a differenza di qualche decina di anni fa è caduto proprio diciamo anche questo ottimismo verso il futuro e verso la capacità di dare risposte. Probabilmente io penso non è più un dato comunemente accettato diciamo ciò che è stato all'origine dell'Europa, ai valori che sono stati all'origine dell'Europa, non è più un presupposto comune che permetta appunto di affrontare insieme anche i problemi, le difficoltà e le sfide. Per questo io credo che è molto importante ecco svolgere un'opera di formazione e di educazione soprattutto nei confronti dei giovani per cercare di mostrare concretamente la validità del progetto europeo. L'Europa è stanca, dobbiamo aiutarla a ringiovanire, ha detto Papa Francesco alla Sant'Egidio il 15 giugno scorso, ricordando anche che ci sono 75 milioni di giovani europei che non lavorano e non studiano. Coniugare sicurezza e solidarietà può essere la strada giusta? Ma io credo di sì che questa è la strada che si deve percorrere. Ecco oggi purtroppo il grande problema dell'Europa è proprio la disoccupazione, la disoccupazione e la mancanza di lavoro da parte soprattutto di tanti giovani per cui aumenta l'esclusione sociale. Invece una solidarietà e un'attenzione a questa categoria di persone come a tante altre categorie di persone, ecco appunto pensiamo ai migranti, pensiamo alle madri che si trovano sole a dover educare i figli, pensiamo agli anziani, pensiamo ai disabili eccetera, tutte queste categorie di persone, un'attenzione particolare a loro potrà essere diciamo un cammino sicuro per ridare vigore al progetto dell'Europa perché ripeto l'Europa è nata proprio per questo, è nata per assicurare la pace e per assicurare diciamo anche un'attenzione particolare nei confronti delle categorie più svantaggiate.